ciao a tutti in questo video vedremo come clonare la propria voce all'interno di filmora a partire dalle versioni più recenti di filmora esiste la possibilità di utilizzare delle voci sintetiche oltre a questo è stata aggiunta la funzione di clonazione della voce per utilizzarla poi all'interno di un video andiamo a vedere come funziona per prima cosa per utilizzare una voce sintetica abbiamo bisogno di un testo quindi possiamo andare nella tab dedicata e selezionare anche un titolo semplice giusto per avere del materiale di base scriviamo il nostro contenuto anche una semplice frase per fare una prova va bene per avere un confronto scriverò la frase con cui è iniziato questo video perfetto abbiamo scritto la frase a questo punto clicchiamo due volte sul testo e in alto troverete la tab sintesi da voce a testo questa tab racchiude le funzionalità riguardanti la creazione di voci sintetiche e possiamo vedere che sono presenti tutta una serie di voci che possiamo utilizzare per leggere dei testi dei sottotitoli ci sono moltissimi preset maschili e femminili possiamo anche ascoltarli cliccando sopra l'anteprima wondershare la creatività semplificata wondershare creatività semplificata ma oltre a questo nella parte alta troviamo le voci personalizzate che sono proprio quelle che possiamo creare noi stessi vedete che io ne ho già creata una di esempio e però possiamo farne una nuova partendo da zero in alto prima di tutto dobbiamo selezionare la lingua in questo caso scegliamo la lingua italiana e possiamo anche selezionare diciamo così un filtro per scegliere la voce che più ci piace nel caso scegliere una sintetica nel nostro caso possiamo filtrare soltanto le voci personalizzate cioè quelle che abbiamo creato noi in modo da avere un menu con meno distrazioni a questo punto il procedimento è molto semplice ci basterà cliccare sul tasto più e quello che ci viene aperto è un menu dove è possibile dare un nome a questa nuova voce in modo da poi identificarla in futuro dobbiamo selezionare l'input audio di registrazione quindi di fatto l'input del nostro microfono quindi nel mio caso selezionerò la mia scheda audio e l'ultimo passaggio è quello di registrarsi mentre si legge il testo che vediamo a schermo questo ovviamente serve al software per clonare la voce della persona e c'è in basso e c'è in basso l'indicazione di come dovrebbe essere questa registrazione quindi naturalmente bisogna registrarla al meglio possibile dal punto di vista del microfono dei non avere suoni o rumori di sottofondo eccetera ma è molto importante anche non andare troppo veloci perché deve essere compreso il file audio tra 20 secondi e un minuto naturalmente come viene indicato anche qua tutte le inflessioni o gli accenti che noi diamo leggendo vengono poi effettivamente utilizzati per la creazione della voce quindi la stessa persona potrebbe creare delle voci un po' diverse in base a come legge il testo ricordiamoci sempre che è uno strumento che usa l'intelligenza artificiale e come tutti gli strumenti all'interno di filmora ma non solo all'interno di filmora utilizza dei crediti quindi ci sono dei crediti che possono essere o giornalieri o in base ai pacchetti che avete acquistato un numero ben determinato che ovviamente vengono poi scalati man mano che si utilizzano funzioni con l'ai quindi controllate sempre l'indicatore per sapere quanti crediti avete se ne avete bisogno di altri eccetera naturalmente io adesso registerò questo testo ma metterò in pausa la registrazione io ho appena finito la registrazione vedete che è durata poco più del tempo limite quindi 37 secondi è possibile eventualmente riascoltarla premendo play e se non ci soddisfa la possiamo riregistrare nel mio caso provo ad andare avanti col procedimento quindi cliccherò su clona voce parte l'elaborazione che è piuttosto rapida in realtà e vediamo quale sarà poi il risultato finale l'elaborazione terminata vediamo che in libreria adesso abbiamo la nuova voce al nome che io ho dato poco fa possiamo anche ascoltarla in preview la vita è come una scatola di cioccolati non sai mai qual è il sapore del prossimo pezzo e direi che è venuta abbastanza bene magari non è perfetta al 100% però sicuramente è associabile molto facilmente alla mia voce bisogna adesso provarla con un testo in realtà è molto semplice perché noi abbiamo già inserito il testo quindi una volta selezionata la clip ci basterà cliccare su genera ecco che a questo punto parte l'elaborazione il testo appunto viene letto dalla voce artificiale per così dire e viene inserito automaticamente sotto il titolo che abbiamo inserito in timeline proviamo ad ascoltare ciao a tutti oggi vediamo come clonare la propria voce in film ora e il risultato comunque non è niente male poi naturalmente quello che viene letto dipende anche dalla punteggiatura per esempio se io cambio il finale la punteggiatura finale e provo a generare nuovamente la voce dovremo avere un risultato diverso proviamo ad ascoltarlo ciao a tutti oggi vediamo come clonare la propria voce in film ora e vedete che in realtà cambiando semplicemente il punto esclamativo in un punto la frase ha un'intonazione diversa tra l'altro è interessante perché questa voce in libreria può essere utilizzata anche all'interno della funzione di creazione automatica dei video quindi quella che crea video partendo da testo sempre di film ora e sempre che utilizza ovviamente l'intelligenza artificiale che è proprio l'argomento di uno dei prossimi video quindi faremo proprio la prova di creare un video partendo completamente da zero a partire proprio dal testo e farlo generare completamente compreso di montaggio titoli musica e anche voce dal software la voce che fino alle scorse versioni era una voce completamente artificiale e quindi sintetica adesso una volta che abbiamo clonato la nostra voce può essere utilizzata proprio per la creazione anche di questi video quindi abbiamo esplorato questa nuova funzione di clonazione della voce come tutti strumenti basati sulle AI bisogna sempre tenere presente che nel momento in cui escono hanno una qualità che sicuramente poi va a migliorare con l'utilizzo e col passare del tempo e quindi può essere interessante vedere proprio l'evoluzione e di come migliorerà nelle prossime versioni fatemi sapere come al solito se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial